Allora, dopo i 70 metri, oggi proviamo i 90 metri, vogliamo usare di più, vediamo che succede a 90 metri. Da qua sono 90 metri, la linea dei 70 è la linea dei 70 metri. Vediamo a 90 che succede, 90 metri. Vediamo dove è andata, questa ha fatto il TOC. Vediamo a 90 metri, vediamo a 90 metri. Vediamo a 90 metri. Vediamo questa, vediamo queste. Buona, 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 ottimissima. Vediamo. 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 Buona anche questa, abbiamo già 5, 5-3 ci vediamo 2 soldate, 3-2 ottime, più vediamo. Buona, buona buona buona, ultima freccia mi sembra, ultima freccia mi sembra ottima, adesso andiamo a vedere la giù e ci vediamo. Comunque ecco dov'era, eccola qua, vabbè ci sta dai, una ci sta. Sinusoide, Smart Riser, Smart Riser, Sinusoide, ottima copiata, uso sempre le VAP V6 900, VAP V6 900 con alette naturali da 3 pollici, le mie frecce sono lunghe 27,5 e uso circa 35 libre, come vedete anche con 35 libre, 35 libre effettive, i flettenti sono da 36, allungo circa 27, quindi siamo lì, anche con 35 libre effettive si arriva a 90 metri, si può fare una bella rosata, poi farò un video con un mirato e niente, provate anche voi e poi sappiatevi dire qualcosa. Ciao a tutti, ok, grande rosata, non credo che la ripeterò.